Noi col Salone di Torino arrivando più avanti nella stagione, avendo quest'anno deciso di andare ad ottobre, ovviamente incrociando le dita ci auguriamo che allora sarà davvero possibile ritornare a vedere e torneremo a vedere, a toccare con mano, ma non troppo, diciamo così, perché sennò poi si rovinano le tavole dei finalisti. Al Salone abbiamo proprio cominciato così un po' di anni fa, ricorderai, per noi l'idea stessa di fare una mostra dentro gli spazi del Salone che non sono costruiti per fare esposizioni vere e proprie, è sempre stata un'idea che ci ha messo, insomma, che ci crea problemi, ma con voi questo accordo è stato trovato subito in fretta e abbiamo cominciato così, esponendo le tavole dei finalisti. La varianza del Salone è quella di far entrare il pubblico generalista, di far entrare a contatto le famiglie, le scolaresche, diciamo così, ma soprattutto le famiglie con l'universo del libro e in questo caso con l'universo del silent book. E ha avuto successo. E ha avuto successo. Era un po' strano questa. Il vedere il passaggio da una semplice esposizione di tavoli, all'idea che poi queste tavole diventassero un libro, diventassero tanti libri, e che questi libri avessero questa caratteristica, di non avere le parole.